Benvenuti a tutti in un nuovo video di Overwatch E oggi volevo provare ancora un'altra volta OBS Anche perchè questo qua è già la seconda volta che sto registrando Anche perchè la prima volta è andata un po' maluccio perchè ho visto che andava a scattoni E quindi volevo riprovare adesso Quindi allora, mi rimetto OBS a sinistra così che vedo se ho problemi di... Di registrazione Allora, gioca Partita rapida Prima praticamente mi dava problemi di encoding E quindi si vedeva un po' Un po' scattoso Ora lo dovrei aver abbassato con lo scatto che c'era di mezzo Preparate le difese Allora, siccome sono... Andiamo col dannato nano Col nano dannato Ci abbiamo due genji Tutto apposta Speriamo che vada bene Rimbocchiamoci le maniche e via Cavolo dovete mettere, sono un cacchio di nano rosa Insomma ci già fanno Il duro lavoro paga Il duro lavoro paga Attaccanti in arrivo tra 30 secondi Un po' alto però non vale Io vi guarderò le spalle Ma fate attenzione là fuori Barriera attivata Che è che mi sta spazzando da vicino? È un andato Un poveretto Cucciolone Dange dange Far a cura Sembra non avere problemi ora che ho aumentato un pochettino il bitrate Da... Da 6.000 a 8.000 Scusa amico Spero che quando faccio sta cosa Non vi laghi Armon ready to Qualcosa Non mi ricordo come ti ci fai Qua chi? A chi? È che ci vuole la scienza però A chi attaccate voi? Moltenco Moltenco E' morta la pura Com'è che è morto? Ah assist Venite a prendere l'armatura Ok I frame sembrano andare bene Sto dando 90 fps Tutto qua Buongiorno No devono prendere qui qui è il nostro Buongiorno Ah chi ti cagate? Ah va bene Ma che me frega me ha tirato io volevo attacare quell'altra Attacare 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 Torreta Defendimi te Ah va bene Tiene amico Vieni con la presa della armatura Grazie 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 Show ек Dietro di voi, dietro di voi! Non mi ricordo quale era il tasto per la chat vocale, se no io lo direi. Allora, iniziamo a diventare dei veri gioppetti. Mi hanno devastato, se l'avrei potenziata prima era meglio, perché tiravo l'ultimate adesso. Sono capi di babbo. Che brutto così è, però... Armatura pronta! Armatura! Venite a prenderla! Ti soffera! Grazie, amico! No problema! Ricevuto! Qua è meglio! Ok, andiamo di qua! Battle support! Vai via! Ah, che bella questa canzoncina! Mi la ho di più di tutte, devo toglierla! Perché mi aspetto un push tipo finale della morte? Perché farò dei danni bruttissimi? Purtissimi! Poi ci non ci metto! Il momento è un po' di più! È un po' di più! È un po' di più! Che verrà un po' di più! Ma non ci metto! Che verrà un po' di più! È un po' di più! Sono carico Eh, tristezza A sudora Allora Torniamo giù La mia torretta rosa Non si può vedere però se è torretta rosa, dai Anche io sono corpo a corpo Che bello che è Che è che è si è bugato! Salve! Muori! GG E l'onetto rosa malefica a vita, si, è bello Quindi Diciamo che per questo vi dirò tutto Alla fin fine ho giocato con Torbjord Non perchè tipo Ehi, piazza la torretta e stai là fino a quando non muori Ho giocato con Torbjord solo perchè voglio livellare velocemente Realmente Anche perchè otterrai quasi sicuramente in difesa Più esperienza che un altro personaggio In questo caso ne abbiamo ottenuto 3000 Perchè riceverai almeno 2 medaglie d'oro secondo me Se le piazzi bene Va bene Quindi per questo vi dirò tutto Vi saluto con questa simpatica scimmetta Di cui ho anche la foto su course Almeno di quando era cucciolo Adesso mi fa un po' E' un po' bruttarella così Mettiamolo così Quindi per questo vi dirò tutto Alla prossima Ciao ciao Perchè oggi vi dirò il saluto così Amen Ciao